Non ci resta che provare con il Viagra Ma per risolvere il suo problema di memoria Guardate che lui ha problemi di piccole amnesie, mica problemi di prestazione Ma tu, ma quando andiamo a casa? Oh, ma quando andiamo a casa? Tu vede? Fa sempre la stessa domanda Quando andiamo a casa? Oh! Quando andate a casa? Signora qua l'abbiamo provate tutte, non resta che provare anche queste D'altronde parliamo di un vasodilatatore, magari può sbloccare qualche arteria invecchiata nella testa La sua pressione è eccellente, non ha alcun problema cardiaco, io una prova la farei, io direi di usare una pasticca da 50 Oh, ma quando andiamo a casa? E questa è da 100, mi raccomando, la deve spaccare a metà Ma chi, a mia moglie? No, alla pasticca Ah, signora Rosato, come va? Allora com'è andata la cura? Ha risvegliato la memoria di suo marito? Veramente? Ha risvegliato un'altra cosa? Beh, meglio di niente È solo che da due giorni fa sempre un'altra domanda, ma sempre la stessa Cioè? Guardate voi stessi Se è colla Dove lo devo mettere? Dove lo devo mettere? Dimmi, dove? 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 Dove metto? Un momento, sì, 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 no